ciao a tutti ragazzi e benvenuti sullele king tv con questo primo ce lo mi manca di fifa 365 2022 abbiamo queste figurine che abbiamo spacchettato nel video di domenica vi lascio il video qui al termine del video nei video consigliati e sulla id informazioni o mano mano escorre il video vi arriverà la notifica di questo video che se lo siete persi siete persi tanta roba andate a recuperare comunque ci andiamo a inserire nel nostro album finalmente parliamo di album non di raccoglitore queste card che abbiamo card ecco detto parliamo di figurine non di raccoglitore e parlo di card no queste figurine queste sticker di fifa 365 che finalmente è uscito se non sbaglio è uscito leggermente prima degli anni scorsi comunque abbiamo la figurina numero 33 che è il primo pallone che troviamo che è quello del palmeiras verdao verdao del palmeiras squadra brasiliana verdao e ce l'andiamo attaccare qui poi abbiamo la numero 52 del liverpool dove c'è matib e robertson matib col 52 matib eccolo e poi abbiamo robertson poi abbiamo ancora di fifa 365 la numero 54 con anderson e iones oddio no ragazzi si è strappata la figurina non la posso attaccare questa mi dispiace non la posso attaccare se è strappata colpa mia è andato un po troppo violento la numero 67 con ruben diaz e stones del manchester city e andiamo ad attaccare uno qui e uno poco più sotto purtroppo si è strappata e io non l'attacco strappata ragazzi ci ricapiterà ci ricapiterà dai poi abbiamo numero 76 il primo il primo racing star e che racing star che è phil foden stella del manchester city di guardiola poi andiamo al manchester united con l'83 dove abbiamo trovato bruno fernandez e fred eccolo bruno fernandez ed ecco fred poi abbiamo la 88 rushford e sancho poi abbiamo dell'atletico di madrid della numero 96 il mosso e lodi poi abbiamo ancora hermoso e lodi primo doppione che abbiamo trovato in questa collezione poi abbiamo herrera ecco che col numero 100 poi abbiamo la 114 petri e de jong per quanto riguarda il barcelona petri giovane giocatore del barcelona venire sott'occhio classe 2002 poi abbiamo il villa real col 142 gaspar e mandi stanno queste figurine così orizzontali non so se a voi piacciono oppure no poi abbiamo la 157 dell'olympic lyone 157a che jérôme boateng ex giocatore del bayern monaco giocatore in estate eseguito anche dalla roma giocatore che ricordiamo si è liberato a parametro zero dal bayern monaco perché gli è scaduto il contratto non è stato rinnovato poi abbiamo la 168 l'est iones per quanto riguarda sempre l'olympic lyone 168 va qui e che invece ha deciso di andare all'olympic lyone 199 del borussia dortmund poi sempre borussia dortmund abbiamo la numero 200 con akashi e umels qui abbiamo la numero 210 dove c'è la star di questo borussia dortmund poi abbiamo la 222 229 scusate 229 che va qui dove c'è pascalakis e zirkovich portieri del pauc e poi abbiamo la 240 dove c'è kurtis conoscenza del nostro campionato poi abbiamo della juventus che è l'unica figurina degli italiani abbiamo trovato la 667 con chiesa e chin poi abbiamo l'ajax col 312 che è anthony e huller poi abbiamo la 339 quindi dobbiamo andare avanti 339 che va qui che è il mondiale per club poi abbiamo le nazionali abbiamo la 348 in cui c'è gonzalez con martinez laudaro martinez poi abbiamo la 403 che sono i giocatori del quadro paese ospitante per quanto riguarda i prossimi mondiali e poi abbiamo l'ultima figurina che è la 418 che va qui sotto ecco qua ragazzi per questo primo ce lo mi manca è tutto io vi saluto ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti ciao